Nasce a Roma nel 1920, nipote della famosa soprano Luisa Tetrazzini. Viene aiutata dalla zia ad entrare nel mondo dello spettacolo, iniziando con piccole parti in pellicole dirette da Matarazzo e Mastro Cinque, ricoprendo parti di donna fatale e sofisticata, per poi approdare, essendo dotata di una bella voce. Al teatro di rivista, come su Brett, prima nella compagnia di Tino Scotti, poi in quella di Nino Taranto. Nel 1947 dopo il matrimonio con un medico iraniano, seguì il marito che per ragioni professionali doveva trasferirsi in Turchia. Al ritorno riprende l'attività, sia nel cinema, nel teatro e alla radio. Per poi ritirarsi a vita privata alla metà degli anni 50.